Come dirsi addio in meno di 40 giorni a poco prezzo, 16 euro, con buona pace degli avvocati. Ma attenzione, a patto che non si abbiano figli minorenni oppure maggiorenni con handicap o non autonomi economicamente, né patti di trasferimento patrimoniale, in tal caso è necessario un legale. Separazione e divorzi consensuali veloci, da oggi al comune di Bari, primo in Puglia a dotarsi del servizio, per ora in via sperimentale. Siamo tra i primi comuni in realtà in Italia, questo nell'ottica di semplificare la vita dei cittadini e ridurre il contenzioso nelle aule giudiziarie. Basta recarsi negli uffici di Largo Fracca Creta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto notarile che certifichi le condizioni previste e in caso di divorzio copia della sentenza di separazione. Da quando è entrata in vigore la legge varata dal governo Renzi, il comune è stato sommerso di informazioni, oltre un centinaio, le coppie soprattutto giovani. Soprattutto purtroppo giovani, coppie non più di un paio di anni sposati. In realtà gli opposti, o matrimoni celebrati da pochi anni o matrimoni ormai 30-40 anni. Tre incontri ogni giovedì a partire dall'8 gennaio, data già al completo, con tre richieste di separazioni e due divorzi. Quasi al completo anche il giovedì successivo. Il comune sta predisponendo anche un servizio prenotazioni online. Contiamo di aumentare le giornate a disposizione dei cittadini. Coppie in crisi? Evidentemente sì, a giudicare dal calo dei matrimoni civili. Userete meno la sala matrimonio? Si usa molto di meno in quest'ultimo periodo la sala matrimonio.